Social Trend, le news a portata di Hashtag con Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti. Buonasera a tutti i telespettatori di Radio Roma, bentornati a Social Trend. Questa sera partiamo io, Matteo Acitelli e Esmeralda Moretti. Per una volta che Matteo si è ricordato di presentarmi. Stavo per commettere un grosso errore un'altra volta, ma no, non potevo farlo e quindi... Perché poi io fuori onda lo picchio. Esatto, vorrei tornare a casa sano e salvo. Questa sera, come vi stavo per anticipare prima di introdurvi giustamente Esmeralda Moretti, parliamo di Chiara Ferragni perché negli ultimi giorni si torna a parlare di lei e in particolare di un video che è stato ripubblicato da Repubblica.it che ha tirato fuori un vecchio video che la vedeva protagonista addirittura nel 2010. Un video che vedeva per la prima volta Chiara Ferragni partecipare ad una Fashion Week. Stiamo parlando della Fashion Week milanese che si svolge tutti gli anni nel mese di febbraio, quindi praticamente veramente di 13 anni fa, proprio precisi precisi. Questo video vede, appunto, coinvolta Chiara Ferragni in questa breve intervista che la vede presente agli inizi della carriera, prima ancora che diventasse un'imprenditrice digitale, un'influencer. Aveva da pochissimo aperto il suo blog, The Blonde Salad, e quindi stava muovendo i primi passi nel web e anche all'interno delle sfilate milanesi. Ma vediamo subito questo video e poi lo commentiamo insieme. La moda è un po' indietro sotto il punto di vista delle tecnologie di internet, comunque nel dare lo spazio alle persone giovani. Il mio blog si chiamava Blonde Salad, l'ho iniziato a ottobre 2009. L'idea del titolo è stata per il fatto che, vabbè, io sono bionda, mi piace comunque, è una mia caratteristica. E Salad per il fatto che è un'insalata di tutto quello che mi piace, quindi tendenze, foto. Mi piaceva l'idea di creare un blog sul mio modo di vedere la moda, il mio modo di vedere la vita, quindi comunque anche con gli amici, le uscite, magari i locali, i posti che frequento. Non mi aspettavo il successo che ho avuto subito, diciamo. Mentre all'estero i blog sono molto seguiti e, nel senso, le blogger più famose, i blogger più famosi sono invitati dappertutto, fanno collaborazioni, hanno sponsor e tutto quanto. Pensavo fosse una cosa che, nel senso, fosse più difficile da raggiungere in Italia. Contatti, nel senso, visite, così. E adesso più di 15.000 visite al giorno. I blogger sono le persone più vicine, comunque, ai consumatori finali. Sono andata alla presentazione di Benetton, poi sono andata alla presentazione di Guardian, adesso questa sfilata, poi quella di Moschino. Mi fa molto piacere partecipare più attivamente, insomma, al sistema moda, cioè, nel senso, avere la possibilità di vedere le sfilate e tutto quanto. Quanti anni hai? 22. Io sono una studentessa di legge. Sto facendo giurisprudenza al quarto anno, mi manca un anno e mezzo, in Bocconi. Quello lì è comunque, vabbè, la mia strada principale. Il blog è nato come è nata la mia passione per le fotografie, che, nel senso, soltanto per un passatempo. Posso dire che fa stranissimo vedere questo video oggi, qui, dopo aver visto, appunto, quello che è diventato, poi, Chiara Ferrani. Ma, tipo, i primi piani sull'occhio, a me mi uccidono. Sembra un video a Marcol, proprio di questi proprio finti, un po' creati, però, fa veramente molto riflettere, perché, appunto, in questo video racconta un po' quali che sono stati, proprio, i primi momenti della sua carriera online. Questo video è stato girato, ovviamente, nel 2010, quindi, un anno, nemmeno un anno dopo, la sua pubblicazione online di questo TheBlondSalad.com, questo blog, che poi è diventato un e-commerce, è diventata una vera e propria azienda, che vende, oggi, poi, tutti i capi di Chiara Ferragni, quindi, tutta la sua collezione moda, Chiara Ferragni Collection, ed è interessante osservare come questo, appunto, suo successo sia nato da questo blog, che all'epoca faceva 15.000 accessi al giorno, e comunque, se lo paragoniamo, magari, a tanti influencer che oggi fanno TikTok, video, reel, eccetera, erano abbastanza pochini, forse per lei, magari, erano tantissimi, però... Ma blog è proprio sito, quindi, no? Sì, perché, ma questo, appunto, esistendo piattaforme social, tipo Facebook o Instagram, lei, praticamente, inizialmente postava i suoi outfit all'interno di questo blog, quindi condivideva, non so, commenti, opinioni sulle sfilate che aveva avuto modo di assistere alla Fashion Week, ma, in realtà, condivideva un po' anche quelli che erano le sue giornate, quindi, magari, non so, una nuova apertura a Milano, anziché farci il post, come oggi può avvenire sui social, lei lo faceva attraverso il suo blog, poi, in sostanza, parla un po' di quella che era la sua idea iniziale, ovvero quella di studiare giurisprudenza, quindi laurearsi e magari diventare, non so, avvocato. In realtà, poi, come abbiamo visto, per fortuna, nonostante in questo video affermava che era la sua passione secondaria quella di diventare una, diciamo, appassionata di moda e lavorare tramite la moda, devo dire, per sua fortuna ce l'ha fatta e quindi, appunto, abbiamo visto come è andata poi a finire. È interessante osservare anche che in questo video si vede anche, così, al volo il suo ex fidanzato, Riccardo Pozzoli, che per anni si è pensato essere la mente creativa dietro al progetto Chiara Ferragni, poi, in realtà, devo dire, su questa vicenda Chiara Ferragni ci è tornata diverse volte, anche sul palco del Teatro Ari, sono proprio di recente all'ultimo Sanremo, sembrerebbe che la stessa imprenditrice digitale, durante uno dei suoi monologhi, ha tirato, diciamo, un po' la corda su questo argomento e ha tirato in balla anche il suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli, che oggi, in realtà, si occupa, diciamo, di tutt'altro, ma in realtà anche di moda. Ma vediamo un attimo questo monologo della Ferragni a Sanremo e poi lo commentiamo insieme così capiamo subito come ha voluto Chiara Ferragni sottolineare che in realtà il progetto è suo ed è nato da lei. Non sminuirti mai di fronte a nessuno. Noi donne siamo abituate a farci piccole di fronte a uomini insicuri e te lo dice una che ha accettato persino che qualcuno si prendesse il merito di averla inventata e ha lasciato che questa fosse la narrazione per anni, prima di rendersi conto di quanto tutto questo fosse sbagliato. Sai, da donna dovrai affrontare tante battaglie, dal dover lavorare il doppio di un uomo per farti prendere sul serio, al non poter vivere liberamente nel tuo corpo, perché se lo nascondi sei una suora, se lo mostri sei una troia. Ecco devo dire Chiara Ferragni ha voluto essere molto diretta nei confronti anche del suo ex fidanzato per anni si è pensato che Chiara Ferragni facesse un po' più la parte creativa e invece il ragazzo si occupasse di tutta la parte più legata alla crescita del business quindi il sito web, gli shooting fotografici, i vari appuntamenti, invece a quanto pare la Ferragni ha voluto sottolineare ma come ha fatto anche nel documentario Unposted, non so se hai avuto modo di vedere quel documentario? Non l'ho visto. No ma in realtà neanche io, però poi anche qui ci ricordiamo un'altra puntata che non ci abbiamo avuto tempo per vedere neanche le cose che escono però in questo documentario che è uscito appunto nel 2019 in cui la Ferragni ha fatto anche la presentazione alla Mossa Internazionale del Cinema di Venezia, insomma anche in quell'occasione ha voluto sottolineare no, nessuno mi ha creato, ho avuto un business partner con cui ho lavorato per tempo ma diciamo che sono stufa di sentire che qualcuno mi ha creata e penso che ormai i fatti parlino chiaro anche qui questa giusta chicca dice da quando lavoro in autonomia i miei lavori e traguardi professionali sono triplicati se non di più, questo è maschilismo allo Stato Puro quindi ha voluto diciamo distruggere l'ex ragazzo Riccardo Pozzoli che giustamente anche lui vanta dal canto suo di aver dato vita a The Blonde Salad anche se effettivamente devo dire i due inizialmente per diversi anni hanno collaborato e anche lo stesso Pozzoli aveva parte attiva all'interno della Blonde Salad Crew quindi della sua agenzia poi chiaramente sappiamo come sono andate le cose, i due si sono lasciati Chiara Ferragni si è messa con Fedez, Riccardo Pozzoli ha continuato e si è sposato anche lui ha avuto due figli credo con una modella quindi diciamo le strade dei due si sono separate e oggi Chiara Ferragni almeno fino a nuove prove sta con Fedez proprio a riguardo di questa diciamo relazione ne abbiamo avuto già modo di discutere sì in seguito a tutte le scenate delle settimane scorse addirittura utenti che ipotizzavano un divorzio aiuto adesso come facciamo si era organizzata questa manifestazione in supporto della Ferragni e di Fedez guarda mi dispiace che quella manifestazione poi non sia più svolta perché appunto a quanto pare avevano addirittura talmente tante persone che la polizia aveva paura per l'ordine pubblico e quindi ha detto ragazzi annullate per favore la manifestazione perché non è stata autorizzata e non vorremmo che poi sfoci in qualcosa di con troppe persone all'attivo di questa vicenda però tra Chiara Ferragni e Fedez devi sapere che di recente se ne occupa addirittura Fabrizio Corona non so se tu hai presente questo diciamo ex paparazzo che poi è tornato all'ordine della cronaca diciamo rosa per diverse notizie e scoop che ha fatto negli anni di recente ha pubblicato su un suo canale Telegram perché ha deciso che Instagram dopo aver avuto diversi ban diversi problemi anche lui all'interno della piattaforma ha pensato bene di trasferirsi sia su TikTok che su Telegram dove sembrerebbe avere diciamo più libertà di espressione che fortuna esatto ha trovato questa sua piattaforma che a quanto pare gli sta piacendo molto e quindi ha deciso di inaugurare questo canale Telegram con una serie di scoop e tra questi scoop proprio di recente ha pubblicato un post legato ai Ferragni e come possiamo vedere anche a schermo in questo diciamo post l'ex fotografo ha rilasciato nuove dichiarazioni proprio su questa coppia e come scrive dopo la bufera sul post Sanremo le acque in casa Ferragni si sono tutt'altro che calmate Chiara Ferragni è sempre più prepensa a chiedere il divorzio quindi sottolinea questa possibilità ma sulla base di cosa? Cioè lui dove le prende? Quali sono le sue fonti? afferma di avere fonti certe devo dire in passato che sarebbero ma ha tirato fuori addirittura degli scatti da cui lui avrebbe dedotto che i due sarebbero in rottura come scrive appunto su questo post in tutto ciò farne le spese e la salute mentale di Fedez apparso balbuziente e recente apparizioni ma questo non è un segreto ma che collegamento è? visto che tra l'altro l'ha fatto su vista quindi non è che serviva Corona a darci questa novità tuttavia dice la vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una seconda stagione della serie Ferragni che allo stato attuale rischia di sfumare tutto quindi staremo a vedere se si farà sembrerebbe in realtà che uscirà come abbiamo anticipato anche in una scorsa puntata verso settembre-ottobre ma vediamo comunque Corona tira le conclusioni dice ecco spiegatevi i motivi della poca presenza sui social di Fedez che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall'altra ha la pressione degli impegni lavorativi quindi secondo Corona diciamo che secondo il film che si è costruito Corona da solo devo dire che effettivamente è un bel film non è l'unico post che ha tirato in ballo Fabrizio Corona e dopo la pubblicità torneremo ad occuparcene perché ha tirato fuori anche un'altra chicca che vi svegliamo tra poco Bentornati a Social Trend questa sera qui su Radio Roma Television ci stiamo occupando dei Ferragni siamo partiti in realtà da una recente intervista recente in realtà del 2010 ma tornate in augita su Repubblica.it che l'ha repubblicata in questi giorni e quindi chiaramente siamo partiti da questa piccola Chiara Ferragni all'epoca aveva solo 22 anni e lì l'abbiamo vista appunto una delle sue prime fashion week milanesi ci ha parlato un po' della sua idea di moda come poteva evolversi la rete e devo dire ci ha preso effettivamente da quel video ad oggi sono passati solo 12 anni ma di carriera ne ha fatta tantissima e da questo servizio poi siamo passati a un po' a trattare la sua vita privata abbiamo visto già in altre puntate la situazione tra lei e Chiara Ferragni il suo attuale marito e padre dei due figli che hanno in comune appunto l'abbiamo visto un po' titubanti la situazione ha sicuramente del gossip dietro tant'è vero che Fedez ormai sono due settimane o più che non lo vediamo attivo sui social lo scorso giovedì 2 marzo tra l'altro al tirato di Lisea di Roma si è tenuta la presentazione della terza stagione di LOL chi vide fuori il game show di Amazon Prime famosissimo e che vede appunto Fedez presentatore anche in quell'occasione Fedez non si è presentato e da questa diciamo situazione si sono venuti a creare anche lì alcuni sospetti come ha spiegato poi Serena Dandini che ha condotto la conferenza stampa insieme a Frank Madano ha affermato Fedez ci segue da lontano quindi ha voluto sottolineare che comunque la presenza di Fedez inizialmente era attesa tant'è vero che appunto era conduttore ma non si è presentato e per l'occasione appunto vi ricordiamo che il prossimo 9 marzo uscirà la terza stagione di questo game show targato a Amazon ci saranno anche in questa occasione tantissimi comici e diciamo attori che hanno preso parte al game show tra cui ci sarà anche Macio Capatonda come guest star ma ci sarà Cristiano Caccamo Herbert Ballerina Fabio Balsamo De De Giaca Luca Bizzarri Paolo Cevoli Marta Filippi Nino Frassica insomma sarà un'altra stagione sicuramente ricca di divertimenti non so se a te ti piace Amazon non abbiamo mai parlato di LOL sì ne abbiamo parlato a me è piaciuta tanto la prima stagione la seconda vero 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 sì anche a me la seconda non mi ha fatto impazzire però ne approfitto per farti vedere il trailer della terza così mi dici già se ti fai un'idea di chi potrebbe essere il vincitore siamo tornati e spacchiamo tutto nuove follie dieci comici piacere ciao a tutti e la regola delle regole non ridere ha risa qualcuno? ora brividiamo che cos'è questa stanza qua? dove ci sei tu? e vai in quel caso non si può fare ma che vada mi sembra? inizialo oltre bella storia rega ti ride e fuori io oltre ad essere un attore sono anche Roberto Bolle Milani che maccio? lo usiamo come arma segreta sono il sequel di Posamen Riposamen più caldo saluto fumante un brodo pazzo Arigata Nei migliori schermi e risoluzione sarà un'altra stagione tutta da ridere diciamo che dove c'è frastica secondo me cioè non ce n'è è fortissimo è fortissimo e tra l'altro è sempre super attuale cioè veramente io lo vedo anche a che tempo che fa spesso è davvero geniale con le sue battute è veramente numero uno e tornando per occuparci invece del caso Fedez di recente l'abbiamo visto la stessa Ferragni pubblicare nelle Instagram Stories un post che vede la vede mano nella mano insieme al compagno Fedez questa foto appunto ha un po' rotto il silenzio che tanto era atteso quindi ha voluto un po' dimostrare che comunque i due stavano in qualche modo ancora insieme c'è ancora questo dubbio da parte degli utenti sul motivo per il quale la stessa Ferragni non posta più foto in cui si intravede Fedez quando parla anche di famiglia la vediamo sempre sola insieme ai due figli e quindi molti si stanno domandando se effettivamente c'è o meno una rottura tra i due lo stesso Fedez inoltre è tornato anche lui in qualche modo sui social per rispondere alla polemica che era stata avviata da Fabrizio Corona cercando in qualche modo di rispondergli indirettamente sottolineando che in realtà con la moglie Ferragni questa crisi non sembrerebbe esserci tant'è vero che sui social lui scrive una stories in cui appunto denuncia denuncia sottolinea sto attraversando un periodo in cui preferisco stare il più possibile lontano dai social in questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie che anzi ringrazio per il costante supporto a presto in questa stories quindi sembrerebbe smentire un po' le voci di corridoio che arrivano un po' dai giornali di gossip un po' dagli utenti che continuano a insistere a cercare informazioni di ultima battuta su quella che potrebbe essere la vicenda tra Chiara Ferragni e Fedez a questa polemica lo stesso re dei VIP almeno così era denominato Fabrizio Corona è tornato nuovamente all'attacco anche in questo caso devo dire tramite il suo profilo Instagram per sottolineare no scusate tramite Telegram per sottolineare e per mostrare a tutti una foto esclusiva è riuscito io non so cosa dai per avere la sua costanza pensa se uno scrive la tesi con quella costanza fa l'università con quella costanza lavora con quella pensa che i risultati si raggiungono se devo tra virgolette trovare un modo per apprezzare Corona devo dire il suo punto di forza è la sua costanza cioè è una macchina da guerra ma io lo ricordo cioè eravamo piccoli noi ma veramente forse ha iniziato a lavorare nel campo del gossip dei VIP da tantissimi anni e quello che secondo me ha fatto la differenza rispetto magari a tanti tra virgolette paparazzi e oltre al fatto che ci ha messo sempre la faccia è sempre stato molto esposto ha avuto anche spesso tra l'altro ha avuto credo denunce su denunce per svariati motivi però ecco dal lato lavorativo se c'è una cosa che forse potremmo trovare per dire sta lavorando bene Corona è proprio il fatto che è sempre sul pezzo e tuttavia riesce a cavalcare sempre tutte le notizie cioè lui ha la bravura secondo me di capire quando è il momento di inserirsi all'interno di una notizia di gossip e trarne benefici ha una velocità che non può essere un uomo solo che fa tutte queste cose rapide devo dire non so se dico una sciocchezza mi ricordo un po' Selvaggia Lucarelli in termini di pensieri anche la Lucarelli è in grado di entrare con le Instagram stories per entrare in una notizia nel momento giusto e chiaramente poi subito tutti la riprendono e Fabrizio Cotono sta secondo me facendo un po' la stessa cosa a modo suo chiaramente e questa volta attraverso specifichiamolo perché se no la Lucarelli ci querela cioè non era questa l'intenzione sono due contesti diversi e tutto però devo dire anche Corona sta in questo caso cavalcando l'onda dei Ferragnes per cercare di comunque avere visibilità poi all'interno dei vari giornali e anche in questo caso sembra ci stia riuscendo tant'è vero che appunto tramite il suo canale Telegram che in queste settimane sta promuovendo a Iosa ovunque quindi anche noi stiamo contribuendo a dare visibilità a questo canale ma devo dire ormai l'ho visto citare da chiunque quindi avrà anche un ottimo ufficio stampa in questa foto vediamo appunto i Ferragnes al parco quindi si vede Chiara Ferragni insieme a Fedez e credo che adesso non vedo bene la foto ma ci sa uno dei due figli su questo pony e come scrive Corona in questo post che accompagna la foto perché una coppia che ha sempre spiattellato tutto della propria sfera personale anche quella più intima oggi decide di non rivelare ai fan i disturbi psichici che Fedez sta attraversando ieri lui ha deciso di rispondermi pubblicando una storia su Instagram in cui asseriva che la moglie è al suo fianco resta il fatto però che la crisi d'amore è vera e resta tale mentre nel privato provano a risolvere i problemi di coppia come dispogna questa foto esclusiva di un'ora fa i Ferragnes scelgono di non mostrarsi più insieme pubblicamente sui propri profili social alimentando così tutto quel chiacchiericcio vero sottolinea Corona che li vuole ai ferri corti c'è dell'altro dietro questa scelta di non istegnamare più nulla insieme insomma o è solo pubblicità anche in questo caso diciamo Corona non la manda in sostanza a dire e prova a tratteggiare un po' quella che sarebbe secondo lui la situazione tra Chiara Ferragni e Fedez ma secondo me in questi post lui sottolinea che anche lui in realtà non sa la verità perché da una parte dice sono in realtà ai ferri corti si stanno per separare dall'altra dice forse stanno facendo tutto solo per pubblicità quindi in sostanza credo Corona dovrà uscire fuori ad altri post perché non mi sembra che al momento neanche a lui sia chiara la situazione io non ho capito comunque Matteo vedete quanto è infostato con la Lucarelli Corona quando facciamo queste puntate io sono sempre zitta invece ma tu ce l'hai un po' di gossip dentro l'anima ma sai io per anni ho scritto anche di gossip adesso dopo di questa cosa non la sapevo ti racconterò anche questo ma perché in realtà in realtà non mi interessa tanto delle situazioni di singole però mi piace come queste situazioni vengono trattate dai giornali ecco questo rientro di Corona in Gio perché non si sentiva a dominare da un botto di tempo l'altro giorno proprio off topic ho scritto a Matteo da niente ho detto Matteo ma stai vedendo che succede tra Selena Gomez e lì perché io me l'ho persa il gancio cosa fosse successo lui invece proprio però effettivamente quell'argomento anche lo dovremmo un attimo riprendere in mano perché tra l'altro nasconde anche diversi retroscena e anche tematiche che si potrebbero effettivamente trattare qui a social trend quindi magari torneremo chissà settimana prossima o potremo stupirmi nei prossimi giorni con qualche puntata dedicata anche a questo gossip americano che è arrivato anche in Italia su TikTok ha preso tantissimo anche gli utenti da noi qui da noi nel frattempo non ci resta che capire quello che succederà nei prossimi giorni su questa vicenda che devo dire sta interessando davvero tutti perché parliamo dagli utenti che seguono i Ferragni che comunque si domandano quello che sta succedendo all'interno della coppia ma anche tantissimi giornali perché come abbiamo visto appunto da dove siamo partiti in questa puntata oggi Chiara Ferragni non è più quel personaggio magari un po' oscuro che arrivava alla Fashion Week e non si capiva neanche bene il perché il motivo oggi possiamo chiaramente sottolinearlo che il suo pubblico è sicuramente molto ampio e chiaramente la sua presenza alla Fashion Week non può che portare benefici anche all'industria della moda ma di questo torneremo ad occuparci nella prossima puntata di Social Trend noi intanto vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamente la prossima puntata sempre qui su Radio Roma Social Trend le news a portata di Hashtag con Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti a portata